La CGL di Teramo chiama e Maurizio Landini risponde. Il segretario nazionale del sindacato sarà in città la mattina di giovedì 16 giugno per un dibattito con associazioni e istituzioni che si svolgerà nello stabilimento dell'ex Villeroi. Al centro dell'incontro la pace, il lavoro, la democrazia, la giustizia sociale e lo sviluppo del territorio. Un voler camminare insieme è questa la proposta della CGL Teramana in un momento di grave recessione. Il futuro bisogna essere riprogettato mettendo il lavoro al centro della discussione. Al centro della discussione significa anche al centro dell'elaborazione politica e sociale e purtroppo non è così. Noi abbiamo il lavoro in questo territorio, in Italia in maniera più generale, che purtroppo da troppi anni trova in qualche modo solo un'attenzione marginale e lo vediamo poi da tutti i dati. Insomma, il salario ultimo per ultimo, insomma, il dato di un salario italiano che è il più basso in Europa e dove è in qualche modo più basso rispetto a 30 anni fa. Come rappresenterete questo territorio a Landini? Questo territorio ha avuto anche un passato importante dal punto di vista dell'attività industriale ed occupazionale. E che purtroppo rispetto a quel passato oggi non siamo più all'altezza. Ecco, è un interrogativo che noi vogliamo porre perché in pratica da troppi anni, da troppi anni anche questo territorio sta scivolando indietro. E noi pensiamo che però, quindi camminiamo insieme, che possiamo in qualche modo mettere in campo una nuova alleanza tra diverse associazioni, tra attività in qualche modo, diciamo che sono economiche e sociali e che sanno riconoscere quelli sono i bisogni di questo territorio. E quindi per un progetto, un progetto di rilancio del territorio.